Dopo il protocollo d'intesa tra Regione e Comune si giunge all'accordo per il Salesi ed oggi la visita dell'Auroia in Silna. È un accordo che chiaramente è l'ennesimo, speriamo che non sia uno dei tanti protocolli siglati e faglienti. La preoccupazione e la tensione rimane molto alta. Aspettiamo di vedere il cronoprogramma che è sostanzialmente la parte più importante. Dobbiamo salvaguardare assolutamente il trasferimento integrale e non spezzatino come è stato preventivato e annunciato secondo me in modo assolutamente inopportuno. Dunque è necessaria una sede definitiva per il Salesi? Assolutamente sì, sappiamo benissimo che deve essere potenziato questo rifattimento e dobbiamo assolutamente garantire non solo l'eccellenza, ma dobbiamo garantire l'utente sotto tutti i punti di vista a cominciare dal pronto soccorso specializzato. Oggi la visita della Lorenzinno suggella questo protocollo? Sicuramente è una forma di garanzia ulteriore. alta sicuramente, il Ministro conosce molto bene la tematica, l'abbiamo informata, ha preso una posizione e si fa garante ovviamente del buon proseguimento di questo punto.